Ciao, benvenuto nell'ultima puntata di questa settimana che abbiamo dedicato tutta a quelle persone che vanno in pensione e vogliono continuare a lavorare, i cosiddetti pensionati lavoratori. Sono Francesca, consulente previdenziale presso il resto e questa settimana ho parlato per tutta la settimana di questo argomento e oggi tiriamo un po' l'eva. Ti invito a eschiare al nostro canale per rimanere sempre in atto su l'unività previdenziale, lasciami un commento se hai qualche suggerimento da darmi o un argomento da trattare nei prossimi video e clicca sulla cannellina così che ti arriva la notifica quando pubblicheremo dei nuovi contenuti ogni settimana sempre in ambito previdenziale. Quindi diciamo, nel corso di questa settimana abbiamo visto quali lavoratori si devono licenziare e quali no per andare in pensione, come funziona la procedura di decisioni telematiche, quindi come ci licenzia, quali pensioni vanno bene, nel senso può fare un discorso di lavoro in pensione e quali no. E oggi in questa ultima puntata andiamo a riprendere in mano la circolare che abbiamo visto all'inizio, la leggiamo un po' più calma, disponiamo qualche argomento e qualche altra visita che di solito ha il lavoro che è a pensione e vuole riuscarsi. Vediamo anche come funziona una pensione anticipata e quando ci si licenzia in base alla finestra. Ora, la circolare 89 dell'IMS avevamo detto che è proprio la circolare che va a chiarire tutti i punti di questa questione dedicata ai lavoratori dipendenti, cioè detta le regole, le procedure per fare l'operazione di rieoccupazione dopo la pensione. È scritta in un'altra lingua, ok, però è abbastanza chiara, nel senso che al punto 3 troviamo tutti i dettagli, tutta la risposta alla nostra domanda, posso andare avanti a lavorare, come lo posso fare, quanto devo fermarmi, quanto ci perdo e via dicendo. Cosa ci dice l'IMS? Ci dice che è possibile liquidare il richiesto trattamento pensionistico a prescindere dalla durata del periodo di inattività, sia qualora il soggetto si rioccupi presso un datore di lavoro diverso da quello alle dipendenze del quale si trovava al momento della domanda di pensione, sia qualora detta rieoccupazione avvenga con il medesimo datore di lavoro. Al riguardo, al fine di accertare l'avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, è necessario unicamente riscontrare l'avvenuto esperimento di tutte le formalità conseguenti alla cessazione di detto rapporto, quindi dimissione del lavoratore, comunicazione e scrittura di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche. Infatti, per andare in pensione come lavoratori dipendenti bisogna avere una cessazione del rapporto di lavoro, ci deve essere un'interruzione vera e propria di quel rapporto. Dopo questa interruzione del rapporto di lavoro in essere, però, ci si può rioccupare. Qui, prima domanda, posso fare quello che voglio? Nel senso, posso ritornare a fare il dipendente? Posso fare il dipendente con un altro contratto? Posso aprire una partita? Si, poi, se vai in pensione con la legge Fornero, puoi fare quello che vuoi. Puoi essere riassunto come dipendente dalla stessa azienda, puoi andare avanti a lavorare con un'altra azienda, puoi rimanere sempre nella stessa azienda o magari cambiare il contratto, quindi ti puoi fare, inquadrare come collaboratore, oppure puoi firmare un contratto part-time invece che un full-time e via dicendo. L'importante è che ci sia almeno un giorno in interruzione, cioè questa pardella si traduce dicendo che formalmente sarebbe sufficiente essere non in attività il primo giorno della pensione. Qui, se tu vai in pensione col primo di maggio, il primo di maggio non deve essere in attività, il primo di maggio è un festivo, se vai in pensione con il primo di giugno, il primo di giugno non devi risultare alle dipendenze di nessun datore di lavoro, devi essere inoccupato. Questo è sufficiente per prendere la pensione. Dal giorno 2 di giugno puoi riprendere l'attività, puoi farti riassumere. Detto questo, di solito si consiglia comunque al lavoratore che vuole fare questo tipo di discorso, di lasciare un cuscinetto di giorni utile all'Inns per liquidare la pensione, perché comunque, come dice la circolare, bisogna attendere che vengano espletate tutte le formalità relative all'accessazione del rapporto di lavoro. Se sei una persona abbastanza preoccupata, comunque vuoi stare 100% tranquillo, che nessuno si toglie la tua pensione, in realtà il consiglio è quello di aspettare di avere la lettera dell'Inns. Nel senso, ho fatto la domanda di pensione, mi sono licenziato, sono a casa, mi arriva a casa la lettera dell'Inns in cui mi dice, wow che bello, sei pensionato, questa è la tua pensione. Mi arriva poi anche il primo accredito della prima rata. Allora, da lì in poi posso tornare dal datore di lavoro o da chi mi vuole riassumere e dire, va bene, posso ricominciare a lavorare. Quindi questo è il consiglio. Quindi, quanto devi star fermo? Diciamo che se proprio proprio vuoi accettare un consiglio, rimani inoccupato almeno una quindicina di giorni, o se proprio vuoi essere sicuro al 100%, aspetta di essere a tutti gli effetti titolare della pensione, cioè aspetta che l'Inns ti mandi a casa la lettera di liquidazione della pensione. In che formula puoi rilavorare? Come vuoi, nel senso, con qualsiasi tipo di contratto e in qualsiasi formula. Quanto sarai penalizzato? Tutti pensano che, tanti pensano che, da pensionati lavoratori ci siano delle penalizzazioni all'origine. Non è vero, nel senso che la tua pensione lorda rimarrà sempre la stessa. Cioè, non c'è nessuna legge ai sensi della quale l'Inns ti va a toccare la tua pensione lorda perché continua a lavorare. Il discorso su cui si crea un po' di confusione è un discorso di tipo fiscale. Nel senso che, se tu fai solo il pensionato, avrai solo il reddito della tua pensione, ci paghi le tasse solo lì. E l'Inns è il tuo sostituto d'imposta, quindi ti calcola le trazioni, le aliquote IRPEF e via dicendo. Se invece tu fai anche il lavoratore, avrai un'altra fonte di reddito, quindi un altro CUD, per tradurlo in parole povere. Quando poi andrai a fare la dichiarazione dei redditi, il 730 o il modello unico, l'anno prossimo, avrai comunque un conguaglio fiscale. E genericamente andrai a pagare più tasse, cioè ci avrai da dare dei soldi indietro all'agenzia delle entrate. È del tutto normale. Ma questo non vuol dire che tu prendi meno di pensione. Prendi meno di pensione in soldoni, al netto delle imposte, ma perché hai due redditi. Come si fa a uscire un po' dal problema? Il consiglio generale è quello di stare attenti proprio alla questione fiscale. Quindi se tu fai il lavoratore e sei anche pensionato, perlomeno chiedi al datore di lavoro, ma anche all'IMS, di non applicarti le detrazioni di imposta. Quindi non farti fare i sconti sull'IRPEF al mensilmente. Prendi la pensione super super netta. Così quando vai a fare il conguaglio fiscale l'anno dopo nel modello 730, non dovresti avere proprio delle grosse e brutte sorprese. Questo è il consiglio generale. C'è da dire anche che tanti dicono, ok, io ho plena pressione, continuo a lavorare, però tutti i soldi che guadagno in più li do all'agenzia delle entrate. Non è vero, però capisco anche il discorso di una persona che dice, ma chi me lo fa fare di ricominciare a lavorare otto ore al giorno e poi quel poco di più che guadagno, al netto è veramente poco, non giustifica il fatto che io sia ancora impiegato ben otto ore al giorno. Ora magari la soluzione per trovare una quadra è quella di magari farsi rimpiegare con una formula part time. Così comunque il reddito del lavoro, dipendente del lavoro, scende, è di importo minore e va a integrare la pensione. Quindi insomma il lavoro post pensione diventa un po' un modo per aumentare il reddito mensile anche netto. Ti impegna non più tutta la giornata, ma insomma a metà della giornata, comunque parte della tua giornata. Tra l'altro a metà sei libero e poi insomma non lavorare finalmente. Questo era il discorso del cumulo fiscale. Quindi pensione lorda non cambia, cambia la pensione netta, ma non perché l'IMS ti toglie i soldi, ma perché vai a pagare più di tasse banalmente. Se vuoi evitare brutte sorprese quando fai 7,30 ti consiglio di farti togliere le detrazioni di imposta. Però questo è tutto un discorso fiscale. A livello IMS quello che fa da padrone questa circolare che abbiamo visto finora insieme. Ti invito a iscriverti al tuo canale perché settimana prossima parlerò di un argomento altrettanto interessante che è la disoccupazione e la pensione. Nel senso cosa succede se tu arrivi alla pensione con la cosiddetta NASPI, con la indennità di disoccupazione? Ci potresti perdere sul tuo importo di pensione o no? Come funziona in questo caso? Clicca sulla campanellina così ti arrivano anche le notifiche quando pubblicheremo dei nuovi contenuti, sembra in ambito previdenziale, li pubblichiamo ogni giorno. Passiamo al secondo punto. Un'altra cosa che molto spesso i nostri clienti in consulenza ci chiedono è quando si devono licenziare. Nel senso, questo è soprattutto vero quando c'è una pensione anticipata in cui c'è la finestra. Ci sono tante date sui prospetti e non si capisce mai cosa si può fare e cosa no. Adesso prendiamo questa. Vi faccio vedere un prospetto di un nostro cliente al quale abbiamo fatto l'analisi previdenziale. Quindi questa qui è una parte vera del nostro report di analisi previdenziale. Come vedete questo signore poteva andare in pensione anticipata o pensione di vecchiaia. La pensione anticipata era la prima opportunità di pensionamento e quindi quella che prendiamo in considerazione oggi. Ora, decorrenza. La decorrenza 1 gennaio 2029 è la prima mensilità potenziale di pensione percepibile. Vuol dire che al 1 gennaio 2029 questo signore può prendere la prima pensione, la prima rata di pensione. Il diritto alla pensione però lo va a maturare l'8 di settembre del 2028. Dall'8 di settembre del 2028 al 1 gennaio del 2029 c'è la finestra trimestrale. Significa che tu i 41 anni, era una donna scusate, i 41 anni e i 10 mesi di contributi li sei andato a versare l'8 di settembre del 2028. Da questa data inizia parte la finestra trimestrale che sposta il diritto a pensione al 1 gennaio. Durante questi tre mesi di sospensione il lavoratore dipendente eventualmente può prendere in considerazione anche il fatto di licenziarsi prima. Cioè non cessare al 31 12 2028 ma cessare addirittura al 30 di settembre del 2028 o smetteri di lavorare prima. Però in questa situazione per i tre mesi, quindi ottobre, novembre e dicembre, non andrà a prendere alcuna pensione e alcun stipendio. Però può farlo volendo. La situazione classica invece che è quella consigliata è quella comunque di mantenere il rapporto di lavoro almeno fino al giorno prima, cioè quindi fino al 31 12 2028. Se questa fosse una situazione reale, questa lavoratrice dovrebbe dare le dimissioni telematiche come abbiamo visto nel primo video, inserendo come data 1 gennaio 2029 e decorrenza. Quindi significa che lei presumibilmente lavorerà fino al 31 12 2028. Il requisito l'ha maturato invece a settembre. Invierà la domanda di pensione entro e non oltre il 31 12 2028. Al massimo la può inviare un tre mesi prima. Dal primo di gennaio 2029 è quindi pensionata. Stando alla circolare dell'IMS, se vuole farsi riassumere, lo potrà fare già a partire dal 2 di gennaio. Noi consigliamo comunque di aspettare un pochettino per prendere la prima rata di pensione o comunque che arrivi la lettera dell'IMS di provvedimento e liquidazione della pensione. Quindi insomma, magari gennaio star fermi e ricominciare a lavorare dal primo di febbraio. E niente insomma, dimissioni telematiche, domanda di pensione, possibilità di rioccupazione. Possibilità inversa di addirittura cessare prima il rapporto di lavoro, non al 31 12 2028, ma anzi al 30 di settembre del 2028. Queste sono le regole che vanno a regolamentare l'accesso alla pensione anticipata e l'eventuale rioccupazione. Se avete delle domande a riguardo, vi invito a lasciarmi un commento. Ci vediamo al prossimo video.